Il Bari comincia il mese di agosto con il piede giusto. Il triangolare del centenario si tinge di bianco-rosso. K.O. sia la salernitana, padona di casa e protagonista di giornata, sia la regina, potenziale avversaria al vertice nel giro NERC di Serie C. Alla RICI va in scena una festa di sport per i cent'anni del club Granata, ricorrenza celebrata all'insegna del gemellaggio tra le tifoserie. Sul campo, però, è la squadra di Cornacchini ad imporsi e lo fa davanti al presidente onorario Aurelio De Laurentiis, presente sugli spalti di Salerno. Il Bari si aggiudica il primo match contro la regina grazie ad un super frattali, protagonista in almeno due occasioni creati dagli Amaranto. Si arriva ai calci di rigore. L'errore di Di Cesare mette i bianco-rossi con le spalle al muro, ma proprio frattali para ai penalti di Sunas e Bresciani. Il gol di Terrani fissa il punteggio finale sul 4-2. L'avversario della seconda sfida è la Salernitana. Il Bari non si fa intimidire da una formazione di Serie B, con l'ex commissario tecnico della Nazionale Ventura sulla panchina Granata. Passano 12 minuti e Scavone incrocia col sinistro, battendo Micai e portando i bianco-rossi in vantaggio. Basta il gol del centrocampista per battere i padroni di casa e aggiudicarsi il triangolare del centenario. Soddisfazione per Cornacchini, che tra le prime indicazioni positive, in vista dei match ufficiali. La sfida contro la Paganese, primo impegno valido per la Coppa Italia di Serie C, si avvicina a grandi passi. La sfida con i campani al San Nicola è in programma domenica 11 agosto alle 20.30.